Ciao ragazzi, vediamo subito come riparare un'unghia spezzata, per prima cosa andiamo a togliere il nostro smatto e come vedete a me si è spezzata con quel proprio alizio dell'unghia dopodiché prendiamo semplicemente una bossina da tè e andiamo a tagliare con questa parte di tessuto diciamo, andiamo a tagliare con una piccola parte che successivamente andremo ad applicare sulla parte lesionata con della colla per unghie, come potete comunque vedere dalle immagini che seguono una volta comunque applicata per bene quindi questo nostro tessuto andiamo semplicemente a rimarlo la parte comunque in eccesso con una lima io sono andata a togliere anche con quello smatto sulle altre unghie e ho applicato una bassa e attiva crescita sia su quella lì a lesionata diciamo sia comunque sul resto delle unghie e vado ad applicare uno smatto nero su tutte le unghie questo è il risultato, spero che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere con i like nei commenti e ci vediamo al prossimo video, ciao!